Puntare sulle comunità energetiche rinnovabili come miglior difesa dei territori, dai rischi degli shock energetici generati dalle distorsioni del mercato e dai conflitti geopolitici. E' questo il mood emerso dal confronto nella sessione pubblica dell'Assemblea Nazionale di Conf Cooperative Consumo e Utenza, dedicata in particolare ai temi dell'energia. Dobbiamo partire proprio dalle comunità, cioè comunità energetica è fatta di due parole, comunità ed energia. Noi dobbiamo partire da lì, se vogliamo risolvere il problema di questa energia importata e non autoprodotta sul territorio, noi dobbiamo partire proprio da fare le comunità e poi dopo che abbiamo fatto le comunità fare l'energia. Cioè questi sono i due punti fondamentali, crediamo che sia possibile solo attraverso la radicazione nei territori di questo argomento. Il mondo della cooperazione si muove sulle tematiche energetiche sia con la forza di un'esperienza di lungo periodo, basti pensare al ruolo rilevante svolto tuttora dalle cooperative elettriche storiche, sia con la lungimiranza di una visione progettuale. Sulle comunità energetiche, infatti, Conf Cooperative ha avviato un lavoro di analisi sui territori già da alcuni anni, fin dalle prime indicazioni dettate dalla direttiva europea in materia. Abbiamo creato dei modelli, perché prima di tutto dobbiamo creare dei modelli e dei prototipi. Siamo in stretto contratto con RSE, che è il centro di ricerca che riguarda le energie elettriche in Italia, perché già in alcune situazioni abbiamo, grazie alla loro collaborazione, abbiamo creato già dei modelli funzionanti. Questi sono modelli micro, diciamo piccoli. Noi abbiamo bisogno di estenderli, fare dei modelli di comunità che associano cittadini, ma associano anche imprese, per far sì che sempre più l'energia sia prodotta sul territorio e non debba essere importata. Le comunità energetiche e rinnovabili rispondono a dei fabbisogni individuati dai propri membri e rispondono chiaramente a quelle che sono le caratteristiche sitospecifiche delle realtà coinvolte in queste iniziative. Le analisi di RSE hanno dimostrato come sono tre i principali modelli costitutivi. Il primo, un modello public lead, che vede la partecipazione dell'amministrazione pubblica. Il secondo modello, che risponde ad esigenze di carattere sociale. Un esempio virtuoso è la comunità energetica rinnovabili di San Giovanni Teduccio Napoli. Il terzo modello, invece, che vede il protagonismo della piccola media impresa. Sono quindi schemi di attivazione, industry driven. Tutti e tre, questi modelli, rispondono però a un senso comune, quello di comunità. Per il mondo cooperativo, le comunità energetiche rinnovabili si configurano dunque come un modello intrinsecamente coerente con i valori della cooperazione. Non ci sono dubbi sul fatto che oggi, per salute, clima, prezzi, indipendenza strategica, l'Italia debba accelerare sulle comunità energetiche, che è una modalità in cui i consumatori diventano prosumer, sono più partecipativi, sono più generativi, quindi è un modo per aumentare la felicità collettiva. E questo è molto più facile che lo possano fare imprese che non guardano solo al massimo profitto, senza preoccuparsi di effetti esterni, sociali, ambientali negativi, ma imprese che hanno una forma cooperativa, che quindi nascono naturalmente per soddisfare gli interessi dei portatori di interesse degli stakeholder e tra questi anche dei consumatori che hanno un problema serio con le loro bollette.